Credo che questa sentenza rappresenti una vergogna per l'Italia e con dei giudici che non vogliono vedere quello che è accaduto durante il processo e durante le indagini. Io credo che ci sia una speranza per il futuro, credo però di non aver mai visto una cosa così indegna. No, era senza parole, era completamente scioccato e mi diceva non riesco a capire. Grazie.